Perchè bisogna abbattere il ferro quando è caldo, il ferro è il pezzo delle dame. Perchè bisogna abbattere il ferro quando è caldo, il ferro è caldo, il ferro è caldo, il ferro è caldo. Perchè bisogna abbattere il ferro quando è caldo. Perchè bisogna abbattere il ferro quando è caldo. Struccati 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 Espergatti 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 Grazie a tutti